E allora si può vincere, si può vincere! E' appena finita la partita, Lecce-Verona 1-0 per il Lecce, 3-0 per il Lecce no, ufficialmente 1-0 per il Lecce ma in questa partita il Lecce ha fatto più gol che fino adesso di tutto il campionato. Benvenuti, bentornati e ben arrivati in questo canale, in questo mio nuovo video con il post partita di Lecce-Verona 1-0. Ma prima di iniziare vi chiedo come al solito di iscrivervi al mio canale, basta solo un click, di mettere tantissimi mi piace, è importantissimo, se volete supportare il canale mettete tantissimi mi piace e commentate. Voglio vedere tutti i vostri sfoghi di questa bellissima e fondamentale vittoria, mi raccomando scrivetemelo nei commenti, ma prima di parlarne, sigla, rimanete con me, let's go! Ogni battito ha un imno alla squadra, ogni respiro un canto di battaglia, e mentre Yuri alza la voce, Lecce è la tua gloria, non tace! Ogni partita ha una sfida, ogni pifo ha un grido d'amore, il giallo-rosso nel sangue scorre, e Yuri non si ferma, non molla mai! Eccoci qua, è appena finita, 1-0, gol di Dorgu, ma prima del gol ufficiale ne sono stati annullati ben due, quindi effettivamente in questa partita abbiamo fatto tre gol, che sono i stessi gol fatti per tutte queste giornate di campionato, ma l'avevamo già visto nella partita contro il Napoli, avevamo visto un ottimo Lecce, un Lecce assolutamente vivo, che c'è, che è una squadra, si ha fatto vedere che è una squadra compatta, che è una squadra che gioca da squadra e che può dare filo da torcere a tutti. Quindi, dopo il Napoli avevamo visto un bel Lecce durante la partita, potevamo fare di meglio, potevamo tranquillamente portare a casa un pareggio, magari anche qualcosina in più contro il Napoli, ma oggi abbiamo dominato la partita, abbiamo letteralmente dominato il Verona, forse il Verona ha fatto un tiro in porta nel primo tempo e un tiro in porta nel secondo tempo, hanno attaccato un pochino di più quando erano in nove, rispetto all'undici contro undici, verso fine partita hanno attaccato un po' di più, ma il Lecce era veramente stanco e nient'altro, il Verona non ha fatto nient'altro perché c'è stato in campo un ottimo Lecce, Lecce che è andato vicinissimo tantissime volte al gol, oltre i due gol annullati a Dorgu, ci è andato vicino con tanti altri tiri in porta, Christovic che tira, tira sempre ma deve imparare anche, oltre a tirare, che infatti è il giocatore che tira di più in Serie A, deve imparare però anche a guardare un attimo i suoi compagni perché in due, tre occasioni aveva i compagni completamente liberi, soprattutto in un'occasione aveva Dorgu che era libero, quindi bastava gliela passasse un po' in profondità e Dorgu si trovava davanti, bravissimo Dorgu anche a fare spellere il giocatore del Verona perché Dorgu ce l'ha quelle giocate, velocissimo ed è imprendibile, e per prenderlo devi commettere falli, infatti ha subito veramente veramente tanti falli, poi cosa dire, partita veramente giocata bene, quindi abbiamo visto il proseguimento della partita contro il Napoli, l'abbiamo vista anche oggi contro il Verona ed è importantissimo, oggi era fondamentale, l'ho sempre detto anche nei giorni scorsi, oggi bisognava vincere e ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo vinta noi, dopo tre forse risultati positivi per il Verona nel Via del Mare, alla quarta ci siamo riusciti noi e dominandolo anche, quindi adesso testa, dimentichiamocela già questa qua, partita fondamentale, quindi ci siamo un attimo ripresi anche in classifica, ma non siamo ancora a niente, sabato alle ore 15 a Bologna, abbiamo il Bologna e da questa vittoria dobbiamo ripartire per le altre, mi raccomando scrivetemi nei commenti quello che pensate, domani magari farò un po' spartita, un po' più dettagliato, oggi adesso l'ho voluto fare subito proprio per goderci questa vittoria, mi raccomando scrivetemi nei commenti quanto state godendo anche voi per questa fantastica e bellissima e fondamentale vittoria per il nostro Lecce, ci vediamo al prossimo video e Forza Lecce!